ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi andiamo a fare finalmente l'orto voi direte ma l'orto si fa un po prima di giugno infatti siamo a giugno e siamo in super ritardo il problema è stato che qui dove abito io veniva a piovere un giorno si uno di sole e l'altro tornava a piovere quindi avendo un terreno molto argilloso serve molto più tempo per asciugarlo e averlo più lavorabile ecco perché se no poi passandoci con il moto coltivatore la fresa si si impasta tutto e viene un lavoro fatto ma molto molto male infatti io un primo giro di fresa glielo avevo dato una settimana fa ma guardate che schifo di risultato non è per niente bello poi è ricresciuta l'erba quindi ci vuole un altro giro di fresa avevo dato un giro di fresa perché il padre della mia ragazza aveva dei pomodori da darmi quindi per fare in fretta ho fatto un po lavoro così e ho messo giù già i primi pomodori che sono qua qualcuno non è sopravvissuto vabbè dettaglio quello la si è un po seccato ma si riprenderanno quindi ora passiamo al mezzo è il mio solito grillino è 9 cavalli 9 cavalli a benzina ed è pronto per il combattimento allora partiamo con l'accensione bisogna fermare quel blocco lì e poi tirare questa corda diamo un po di gas 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 Grazie a tutti. 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 Vi ho finito di fresare l'orto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale. Io sono sudato come se avessi fatto un bagno in piscina perché c'è un gran caldo. E basta. Spero, ripeto, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!